L'intelligenza artificiale è sempre più presente nella vita di tutti noi. Questa cosa ti spaventa? Di intelligenza artificiale si sente parlare molto. Possiamo distinguere fondamentalmente due filoni di pensiero, uno ottimista e uno pessimista. Personalmente appartengo a quello ottimista. Vedo infatti l'intelligenza artificiale come qualcosa in grado di amplificare l'ingegno umano. L'intelligenza artificiale può affiancare l'uomo svolgendo un ruolo di supporto in innumerevoli attività. Ad esempio nel campo della medicina, delle esplorazioni spaziali o ancora della sicurezza nel settore automotive. Essendo l'intelligenza artificiale in grado di percepire, comprendere, agire e soprattutto imparare, A mio parere la sfida più importante, quella più difficile in un certo senso, sarà quella di trovare un equilibrio tra tecnologia e fattore umano. Soprattutto nel momento in cui l'intelligenza artificiale deve interagire per l'appunto con gli umani. Ci sono ancora moltissime questioni che devono essere risolte. Basti pensare ad esempio alla questione della responsabilità oppure a quella della scelta in una situazione estremamente difficile. Ad esempio mi viene da pensare ad un esperimento condotto presso il Bristol Robotics Laboratory in cui un robot doveva in una simulazione impedire a due individui di cadere in un fosso. Alcune volte è riuscito a salvarli entrambi, altre volte ha deliberatamente scelto di salvarli solo uno, ma in 14 casi su 33 il processo decisionale ha impiegato talmente tanto tempo che nella simulazione sono morti entrambe gli individui. Questo ci fa capire come debbano essere fatti ancora molti passi in avanti, ancora molte migliorie e ci fa vedere che questa è una tecnologia ai suoi primi stadi, ancora in fase di sviluppo. Ciò non toglie, secondo me, che possiamo guardare fiduciosi al suo futuro. Io sono completamente a favore dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma per un motivo ben preciso. Noi se parliamo di intelligenza, parliamo di quella capacità, partendo dai dati elementari, dai dati semplici, di elaborare dei dati più complessi e delle informazioni, delle regole o anche dei modelli e delle previsioni. Quando parliamo, per esempio, di preparare un piatto in cucina, stiamo un po' emulando un'intelligenza artificiale, nel senso che partendo dai singoli ingredienti che sono più o meno semplici riusciamo a preparare un piatto affiancando e combinando tutti gli ingredienti tra di loro. Ecco, noi dando la possibilità e la capacità dell'intelligenza a una macchina non stiamo facendo altro che creare uno strumento potentissimo che è in grado di, partendo dai dati elementari, di elaborare tantissimi modelli o tantissime previsioni che probabilmente l'uomo impiegherebbe molto più tempo e molta più energia ad elaborare e processare. Si tratta sempre comunque di macchine che non sono infallibili. Infatti, chi programa qualsiasi tipo di software ha davanti sempre il passo del debugging. Esistono tantissimi tipi di bug, come i bug logici o i bug all'interno del codice. Un bug all'interno del codice è molto facile da risolvere, infatti si tratta in tantissimi casi di errori puri di sintassi. Un bug logico, invece, è un errore che può portare un algoritmo, anche se ben scritto, a un risultato inaspettato, completamente imprevedibile. Soprattutto quando noi parliamo di AI, parliamo di macchine in grado di processare una mole incredibile di dati in brevissimo tempo e di macchine in grado di imparare in autonomia dalle informazioni che ricevono. Proprio per questo, una macchina, anche se scritta nel migliore linguaggio possibile, con il migliore algoritmo possibile, sarà sempre in grado di sbagliare, proprio perché un programmatore, anche se esperto, non sarà mai in grado di prevedere con assoluta certezza il comportamento di una macchina con intelligenza artificiale. Io, infatti, penso che sia chi vende, che chi compra una macchina con AI di qualsiasi tipo sia, debba essere ben consapevole che la macchina è pur sempre una macchina, quindi una macchina che non è infallibile, una macchina che può sbagliare e che molte volte non può essere prevedibile.